musica eccoci alla seconda parte di Spiro arriva subito a rompicazzi a dirci smettila di prendere il giro della madonna ok eh bravo ok quello che vuoi ok andiamo come prima cosa i coniglietti sono il top forse eh sarà qui eccolo questo è uno Mingus Fabio e Mingus ok questo è uno no è vero qua c'è questo stronzo di merda che cambia direzione preso vuoi dare l'uovo? grazie mille Trixie Trixie incredibile ok non me lo ricordo più non dovevo rompere tutti questi ecco il buco ottimo Matt proprio l'uovo come se piovesse 29 modesti tutti qui sono eh certo eh certo perfetto credo che abbiamo finito tutto bingo ok ok la prima cosa direi di liberare il pinguino quanto vuoi? 700 va bene Bird James Bird certo perché non le ha usate per scappare? perché ho condizioni e volevo conservarle per questo mi pare giusto ora questo è il livello del pinguino dura un bel po' mi pare signore questa è colibri bellissiamo si vede poi un quadrato si lanceranno ole ole questo lo prende automatico si si ah da subito Siegfried direttamente sul calibur si 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 lo so lo so in pratica devo prendere questo e poi ho sbagliato tutto perché devo premere ecco volevo ammazzare quello spero sia ritornato da prima ah il frutto il naso ok ahia stranamente si mette tutto come la prima devo usare intanto per ammazzare ora faccio una strage questo serve soprattutto per i forzieri ole ah si rigenero all'infinito a rapporto signore soldato Chloe ma non si generava più ah si ah non doveva andare così però ok Ryan Lee dove l'hanno fatto uscire non lo so bene bravo Ryan e dobbiamo andare lì no Ryan Lee Ryan andiamo lì ahia non doveva andare così non doveva andare così ora direi giustamente però ne manca uno che dov'è che cazzo lo sa ah di trovarne ancora uno che non so dove sia però fuoco fuoco eccolo fuoco ok che cazzo lo doveva vedere mi moro doveva veramente perfetto perfetto si si dammi l'uovo dimmi spiro molesta ho letto solo molestati Dwight Johnson no quella è Dwayne niente arrivo quello è un Dildo palesemente questo cosa addirittura credo che già sia finito qui ci faresti uno no allora da te ci vuoi che voi avreste cucinato Tom incredibile un dito in culo che non ho messo ottimo ora qua mi ricordo che c'è un altro inseguimento e oltre inseguimento c'è pure una cosa abbastanza rompicoglione dove devo difendere tipo ora doveva finire eh alla fine forse mi dava solo soldi cioè già preso Peewee ok ottimo ottimo dove sono quelli che abbastano il ponte qui è lì molto poi intanto com'è che ha i poteri magici questa botte ok questo si si ok 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 si sono sicuro che siano gemme questo è l'ultimo ecco vai ci provo magari una volta e basta eh si eh si spiro no 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 scusa spiro spiro di arrostire i manoni nemici questa è la cosa tosta ottimo oh grazie grazie rasti rasti true detective ah che viene rapito forse non non ad abracadabra abracadabra oh no abracadabra Ah, questa la ridi. Ecco, bravo Spiro. Ok, oh è. Ecco. E l'unico. Attenzione Scatta l'amore A te ci penso dopo Ehi, perché la devi spaventare? What a dialogo